La vita consacrata E anzi esplicitare meglio con le parole del nostro beato Giacomo Alberione Fare a tutti la carità della verità Lui, il nostro beato fondatore, ha iniziato la sua comunità, la sua organizzazione Nel 1914 abbiamo appena concluso il centenario Con alcuni giovani per offrire il messaggio evangelico nelle forme più diverse A partire prima di tutto dalla stampa con cui abbiamo iniziato Per poi passare al cinema, la radio e altri strumenti come la televisione E oggi naturalmente le web, i social media e quant'altro A Vicenza dal 1952, da chi è formata la comunità dei Paolini di Vicenza? Siamo in dieci qui a Vicenza Siamo una comunità adulta Non abbiamo più tanti giovani tra noi da due anni Quando l'ultimo giovane si è recato adesso a Roma E in questo momento è una comunità paolina Principalmente composta da persone che sono impegnate in varie attività Se vogliamo le nostre attività sono principalmente la libreria Nella città di Padova, nella città qui di Vicenza E poi naturalmente il principale evento organizzato dal centro culturale Che è il festival biblico in collaborazione con la diocesi Una delle attività principali dei Paolini a Vicenza è la gestione della libreria Quando è nata? Beh, è stata iniziata nel 1952-54 Diciamo, a Piazza delle Erbe Attualmente è in corso Paladio 132 ed è ancora lì come libreria Avevamo cercato di spostarci ma non ci siamo riusciti Comunque l'attività rimane ancora lì Che tipo di servizio dà? Beh, la libreria ha il suo impegno maggiore La parola di Dio, cioè la Bibbia, i Vangeli Tutto ciò che concerne, diciamo così, il servizio della parola di Dio Quindi qualsiasi strumento che può arrivare, tipo Vangelo, Bibbia, DVD, diciamo rivista Tutto ciò che concorre noi cerchiamo di farlo conoscere E che tipo di clientela c'è? Beh, all'inizio, diciamo così, era molto, chiamiamo così, da tra virgolette clericale Cioè riservata ai sacerdoti, religiosi Però attualmente è molto aperta anche i laici In modo particolare quelli che sono più interessati E diciamo così di approfondire questa parola di Dio Attualmente c'è molto interesse E anche alla ricerca di strumenti che aiutano a capire questa parola Perché c'è molta, chiamiamo così, tra virgolette ignoranza Cioè non conoscenza, soprattutto si vive di tradizione Poi la parola di Dio attualmente, con la confusione delle lingue che c'è oggi Rischia di essere, diciamo così, coperta Molti tentano, diciamo così, di approfondire Ma in realtà ha un bisogno di aiuto Allora ci sono anche delle scuole Ci sono anche dei corsi In modo che da potersi arrivare a conoscere bene Quattro giorni dal 18 al 21 aprile Per scoprire le ultime novità nel settore dei paramenti liturgici Degli arredi sacri di tutti quei complementi Che arricchiscono e abbelliscono le nostre chiese La fiera di Vicenza ospita Coenè Coenè non è solo una fiera di prodotti esposti Ma è anche un importante momento di riflessione Il tema scelto quest'anno è la nobile semplicità La nobile semplicità potrebbe essere considerato in sintesi Il messaggio che il Vaticano II Che finito 50 anni fa ha consegnato al mondo degli artisti e degli architetti Perché lo utilizzano Tentino di metterlo in pratica nella loro attività Sembra un messaggio semplice In realtà è un messaggio che contiene una carica di rinnovamento intenso e non semplice Perché abbiamo alle spalle, specialmente in Italia ma in Europa Una storia oramai plurisecolare Che almeno negli ultimi secoli, almeno negli ultimi quattro secoli Era indirizzato verso il fasto, il fasto barocco E nell'ottocento ancora uno stile molto carico, molto complicato In cui la decorazione era praticamente tutto Uscire da questo mondo Che ha avuto evidentemente il suo senso Ed entrare nel mondo della semplicità È un passaggio difficile Perché riguarda sia i progettisti, gli artisti creativi Sia le persone comuni Le persone che sono cresciute vedendo certe immagini Le hanno fatte proprie e le identificano in fondo Con la propria sensibilità, la propria vita religiosa Quindi questo è un cambiamento che gradualmente sta avvenendo E sta entrando, passando attraverso tutte le porte possibili Anche la porta delle immaginette devozionali Che molti hanno in casa o addosso E sulle quali quest'anno si è fatto inizialmente Un lavoro di ricerca promettente e molto interessante Anche molto carino La nobile semplicità non vuol dire soltanto un'arte Troppo semplice, semplificata, un po' piatta Al contrario, vuol dire anche un'arte Che entra in simpatia con le persone Ma immediata Che importanza hanno gli ornamenti, gli aspetti artistici nella liturgia? Beh, faccio subito riferimento a un canone Cioè un'espressione che troviamo già nel Concilio Che parla di nobile semplicità Tutti mi dicono che rispetto alle precedenti edizioni Di questa esposizione internazionale di arredi E anche di vetrate e anche di immagini Che sono importanti C'è una maturazione, c'è un avanzamento Proprio in ordine alla bellezza di tutti questi arredi Ma dentro a una semplicità Io stesso visitando, adesso percorrendo qui il salone Ho potuto notare e quindi anche rendermi conto di questa efficacia Diciamo di semplicità nelle casule soprattutto Ma anche direi gli altri arredi rispetto al passato Casule che portavano dentro delle gemme Che portavano poi o disegni o iscrizioni C'è questa nota che rende secondo me la liturgia Anche più coinvolgente rispetto a tutti coloro che vi partecipano Ed ora spazio all'editoriale del direttore della Voce dei Berici Sabato scorso Papa Francesco ha letto la bolla papale Misericordia e Vultus E ha così annunciato solennemente l'anno santo della misericordia E questo è un grande dono che il Santo Padre e la Chiesa tutta fanno A ciascuno di noi e alle nostre comunità In un tempo fortemente caratterizzato dalla paura E in cui qualcuno vorrebbe usare il nome di Dio Per giustificare uccisioni e spargimento di sangue E diffusione di terrore Con questa scelta Papa Francesco ha rimesso al centro Uno dei nomi di Dio Uno di quelli che sono riconosciuti come gli attributi di Dio Anche da parte degli ebrei e dei musulmani E ha dato così un segnale forte di speranza a questo tempo E ci richiama all'essenziale Richiamando ciascuno di noi a una responsabilità Ad incontrare il Dio misericordioso E ad essere misericordiosi con gli altri È una responsabilità a cui ciascuno di noi deve rispondere Diamo ora uno sguardo agli appuntamenti in agenda A partire dall'attività del Vesco Beniamino Pizziol Mercoledì 22 aprile alle 18.30 Nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Vicenza Presiede la Santa Messa E conferisce il Ministero dell'Accolitato Da alcuni seminaristi del Seminario Maggiore Giovedì 23 aprile in mattinata a Colzè Presiede la Congrega dei Vicariati di Noventa Riviera Berica e Camisano Alle 16.30 in Episcopio Incontra i Cresimanni di Gazzolo di Arcole E alle 20.30 comincia la visita pastorale Nella parrocchia di Santa Maria di Marostica Che continua fino a domenica 26 aprile Venerdì 24 aprile alle 10 a Padova Prende parte al Dies Academicus Della Facoltà Teologica del Triveneto Sabato 25 aprile alle 19 Nella parrocchia di San Marco a Bassano Presiede la Santa Messa con il rito di dedicazione A Villa San Carlo di Costa Bissara Mercoledì 22 aprile alle 8.45 C'è il secondo incontro per la terza età Dell'Azione Cattolica Giovedì 23 aprile alle 19.30 C'è l'incontro per gli esercizi nella vita ordinaria Venerdì 24 aprile alle 17 Inizia il weekend sposi di incontro matrimoniale E con questo è davvero tutto Appuntamento alla prossima settimana Con le notizie della Chiesa Vicentina Grazie a tutti Grazie a tutti